Lui si esibirà in due stili di danza hip hop, Lockin ed Electro Boogie, sono due stili di danza che sono usciti poco tempo fa e mi viene difficile spiegarvelo, lo dovete vedere, naturalmente quest'anno se ci sono iscrizioni starà con noi anche questo inverno quindi i vostri ragazzi, visto che non gli piace fare salsa, non gli piace fare baciata, non gli piace fare moderno, non gli piace fare pop vediamo un po' se riescono a fare questo Electro Boogie, ve lo vado a presentare, l'artista di questa sera si chiama Splitter Grazie a tutti 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 Grazie a tutti